Siamo qui con Barbara Ronchi e Toni per Settembre di Giulia Stegervalt. C'è una frase che dice Francesca, il tuo personaggio Barbara. Nel dramma generale uno si può permettere di tutto. Qual è il dramma di Francesca e cosa si può permettere? Il dramma generale di Francesca è quello che pensa che la sua vita abbia una scadenza imminente e quindi ha poco tempo a disposizione e quel tempo se lo vuole mangiare. Cioè finalmente ha trovato il coraggio di andare a cercarsela un po' di felicità, no? E' quello il senso di quella frase che però è anche piena di pentimento, no? Perché ha appena invece ricevuto la notizia che invece il tempo lei ce l'ha e quindi va in crisi per questo. Però accanto a sé ha sempre questo personaggio di Deborah che è quasi un doppio che la completa ma allo stesso tempo sono insieme che trovano il senso di una femminilità nuova. Ecco, come avete lavorato su questo concetto di femminilità? Ma guarda, la sceneggiatura era scritta talmente bene che devo dire comunque era tutto lì, cioè era tutto scritto. Poi Giulia è una regista che tiene veramente le redini di tutto, di ogni scena, di ogni personaggio, di ogni battuta, dell'equilibrio di ogni battuta e di ogni scena e questo è importantissimo quando ti trovi su un set. Quindi devo dire che dal mio punto di vista è stato abbastanza semplice. E poi in questa amicizia, diciamo, trovare questo amore, questo amore che se vuoi è un po' visto dal punto di vista femminile, cioè nel senso di queste attenzioni, di questi piccoli gesti di cura, di così, questo ha sempre fatto parte della mia vita, quindi è stato facile ritrovarlo. Le vostre donne non hanno bisogno di gesti eclatanti per manifestare anche una certa criticità nei confronti del maschile che hanno di fronte. Basta guardarsi, basta sfiorarsi le mani. Come avete lavorato proprio su questo? Non tanto l'importanza della parola, ma proprio dello sguardo, dei corpi che si toccano. Beh, c'era una forma di pudore, no? Perché loro si conoscono da tanto tempo ma non si erano mai guardati così. È come se tu guardassi per la prima volta qualcuno di cui improvvisamente ti sei innamorato. E quindi quello che prima risultava naturale, come un abbraccio, come un tocco di un corpo, improvvisamente diventa quel corpo. E quindi hai paura, cioè paura tanto di essere rifiutato, paura che quel sentimento lo provi solo tu. Cioè prima che due persone si accordino sul fatto che sono innamorate, passa attraverso un pudore che ha a che fare con lo studio. Cioè ti piaccio quanto mi piaci tu, lo vuoi anche tu. Quindi è chiaro che non c'è più un dialogo verbale, ma c'è un dialogo corporeo. Una parte importante del film è questo incontro generazionale. Il personaggio di Francesca, oltre ad essere una donna, è un amante e una madre. E il suo rapporto con Sergio è molto particolare, perché è una madre attenta alle sue necessità. Come hai lavorato con Luca? Ma con Luca, che poi tra l'altro lui aveva già girato delle cose, perché settembre viene da un corto. Quindi lui aveva già fatto parte del film prima di me. Cioè Sergio lo conosce da tempo. Ma insomma quello che ho pensato è che sai le madri, almeno questa madre è una madre sempre presente. Cioè è una madre che dentro casa fa tutto, che si occupa di tutto. Quindi lei c'è, quindi viene data per scontata anche dal figlio. Però la cosa bella di questo rapporto è che il figlio è molto impegnato nella sua di vita in quel momento. Cioè quindi lui è preso da tutt'altro. È come se tutti e due si incontrassero in un momento dove si parlano, no? Che non è una cosa scontata tra madre e figlio. Cioè nei film succede che le madri e i figli parlano con tanta facilità, specie durante l'adolescenza. E invece è una cosa, quando accade, è una cosa un po' speciale. Quindi abbiamo giocato molto sulla specialità di questo incontro e di quel dialogo a letto. Esatto. E l'ultima domanda per il personaggio di Deborah. Secondo te che cosa vede in Barbara che le fa svoltare la sua percezione di questa amica? Dove nasce l'amore? Ma io penso che l'amore ci fosse già. Quando la vediamo nella prima scena, per esempio, quando arriva a casa di Francesca, cerca di sdrammatizzare un momento in cui sa che Francesca ha questo incontro da questo medico per amore di Francesca. Poi va in bagno e piange perché comunque cerca di tenere le emozioni negative dentro di sé per dare a lei invece un po' di leggerezza. E quindi è già innamorata di Francesca. Ma come a volte gli amici si amano, uomini con uomini, donne con donne, donne con uomini. Cioè c'è nell'amicizia, secondo me, un grande sentimento dell'amore. Anche meno richiedente, se vuoi, perché è meno richiedente di quello che riguarda invece le relazioni dei matrimoni, per esempio dei fidanzamenti. E forse proprio in questo fatto che non si chiedono niente e non vogliono niente l'una dall'altra, scoprono che è perfetto così, che è meraviglioso, che è semplice. Grazie mille. Barbara Ronchiattoni, settembre dal 5 maggio al cinema. Grazie. Grazie. Grazie.